amici della casa del sole tv bentornati su allerta 5g rubrica periodica interamente dedicata ai lati oscuri del futuro digitale qualcuno venuto dalla silicon valley ha convinto governi ministri dell'istruzione dirigenti scolastici insegnanti e mondo della scuola che per formare i nuovi studenti non si possa fare a meno di tablet lim ebook stare in data usare biod in class irradiate dal wifi in attesa del metaverso aule 5g in visore ottico in realtà aumentata questo perché negli ultimi anni prendendo il posto di pedagogisti e docenti un nutrito novero di ingegneri informatici si è travestito da educatori spogliando la scuola dei suoi naturali prerogative e sembianze per rivestirla con abiti nuovi nel nome del progresso tecnologico da qui le domande a cosa servono i diari cartacei se abbiamo i registri elettronici a cosa servono la storia la filosofia le scienze umane quando ci sono le tecnologie dell'informazione della comunicazione a cosa serve il pensiero critico se abbiamo il pensiero computazionale a cosa servono le aule di mattoni se abbiamo le classi virtuali a cosa serve allenare l'attenzione se ci sono i videogame educativi alcune risposte direi anche ben articolate le dà e prova a darle il libro nero della scuola come la lobby dell'educazione tecnologica e digitale hanno conquistato la scuola gli studenti e il futuro post pandemia arianna editrice oggi qui ne parliamo sulla casa del sole tv insieme all'autore che è collegato con noi giorgio matteucci romano laureato in filosofia e insegnante di ruolo è stato fino a poco tempo fa in aspettativa per non aver accettato l'obbligo del green pass benvenuto matteucci saluto a tutti allora giorgio leggendo il frontespizio notato che tu non utilizzi smartphone facendo di complimenti ti dico che siamo in due non ho mai avuto uno smartphone non ho mai avuto un social e dico sempre ai miei studenti cioè il giorno che mi obbligheranno ad avere uno smartphone sarà un brutto giorno il giorno in cui sarà obbligato noi siamo già quasi obbligati se avessi un figlio di un bambino sotto credo i tre anni quattro anni che è obbligato al seggiolino elettronico forse sarà obbligato ad averlo per fare qualsiasi cosa oggi serve per cui c'è un obbligo nel possederlo latente subliminale subliminale per il momento per il momento rimaniamo digiuni al di fuori di questa matrix io ricordo agli amici che sono in ascolto che per sbarazzarsi del cellulare smartphone entro primavera 2023 è partita una petizione mondiale per il cambiamento la si può trovare su osisana allora venendo al tuo libro e ti faccio i complimenti in apertura perché la mia riflessione che ho fatto alla fine delle pagine è che finalmente c'è qualcuno che fornisce una visione di insieme oltre a dati documenti e citazioni ma ci fa capire quello che sta avvenendo nella scuola quindi si pecca molto di una visione riduzionistica tu riesci ad aprire squarciare un velo e lanciare una panoramica inquietante a 360 gradi sì beh grazie insomma sì allora su libri sulla scuola ne sono stati scritti adesso penso no sono stati scritti che mostrano anche di recente che mostrano un po il il non ti vedo più sì sì prego prego stiamo vedendo la copertina del libro mostrano come si denuncia come da qualche anno a questa parte ci sia un tracollo delle prestazioni scolastiche no e queste cose emergono anche dai dati oxe pisa sono delle rilevazioni che vengono fatte a partire dalla 2000 dall'anno 2000 ogni ogni tre anni vengono fatte delle rilevazioni su tutti i paesi dell'area oxe e sorprendentemente c'è un tracollo delle prestazioni in lettura in matematica in scienza in particolare a partire dal 2012 nelle rilevazioni dell'oxe si parla di una curva du per cui dal 2000 si può parlare di una salita delle prestazioni e dal 2012 di un tracollo e questo vale per tutti i paesi dell'area oxe indifferentemente addirittura i paesi più avanzati sono quelli che hanno i tracolli più drammatici penso la finlandia la svezia la norvegia la francia la germania l'italia sta calando piano piano in realtà no poi sui giornali si dice che l'italia è dietro il fanalino di coda negli apprendimenti in realtà è quella che sta cadendo di meno sta cadendo più lentamente e questo per quale per quale motivo sta cadendo lentamente rispetto agli altri paesi probabilmente perché appunto siamo più indietro siamo più indietro da un certo punto di vista siamo indietro che per me vuol dire essere avanti certo paesi più avanzati magari tecnologicamente come la finlandia la norvegia la svezia hanno dato impressionanti di questo tracollo e il giappone la cina allora per far capire meglio a chi ci sta seguendo cosa si intende per tragollo io vorrei fare questa sillogismo a me pare un po un assalto alla diligenza ma per arrivare dove cosa si sta sperimentando sulle nuove generazioni attraverso tablet limmi book e biode cioè per arrivare a cosa giorgio ma allora a cosa si vuole arrivare gli obiettivi possono essere molteplici no allora a mio avviso una delle prime questioni è legata all'elaborazione dei dati eh come metto nel libro adesso si potrebbe risalire anche più indietro io sono partito dagli anni duemila dal dal duemila con alcune operazioni della del celebre bill gates no della fondazione bill gates che eh in quanto fondazione è una delle istituzioni che ha finanziato maggiormente l'istruzione negli stati uniti negli ultimi vent'anni eh sappiamo no l'oms sulla sanità però meno si sa sulla di quanto abbia finanziato il mondo della scuola e dell'istruzione e nonostante tutti questi finanziamenti e delle questioni che possono essere no eh accettate da tutti no migliorare la scuola l'apprendimento eccetera la visione di fondo di questi investimenti non è chiaro no non si sa quale sia esattamente il suo obiettivo pedagogico con questi investimenti se non quello di eh costruire cominciato nel duemila costruire una serie di progetti che poi hanno avuto una serie di critiche nel mondo statunitense in blu nel common core sono i nomi dei progetti li stai elencando delle piattaforme di condivisione eh di materiali online eh in alcune sue lettere della fondazione alcune lettere della fondazione si parla esplicitamente che un obiettivo è l'abolizione dei libri di test l'abolizione dei libri non e dei libri di test dei libri e questo perché eh perché i libri secondo Bill Gates eh arrivano fino a un certo punto cioè non sono in grado di capire i libri non sono in grado di capire quanto lo studente o la persona possa comprendere per cui è necessario uno strumento didattico che sia anche in grado di comprendere cosa di comprendere la mente di chi sta leggendo e questo è anche ciò che eh dice Google cioè alcuni ingegneri di Google nel momento in cui Google stava acquisendo i libri dalle varie biblioteche statunitensi uno di questi ingegneri dice chiaramente ma guardate che noi non stiamo acquisendo questi testi per farli leggere agli esseri umani cioè sono testi che andranno letti da un'intelligenza artificiale per cui un obiettivo è questo a mio avviso eh acquisizione di dati oggi viviamo no nella società della sorveglianza no che i dati sono il nuovo petrolio eh che beh insomma questo è un discorso che sappiamo per cui qualche osservatore statunitense dice una frase di questo tipo dice se se i dati sono il nuovo petrolio le scuole sono il nuovo Texas ecco anche anche la Merkel si era espresso in questi termini tu Giorgio nel libro in apertura eh parla parli appunto della fondazione del ruolo della fondazione Bill e Melinda Gates con i vari progetti le citati alcuni no i progetti di riconversione del sistema tradizionale della scuola poi attraverso anche l'agenda europea della scuola digitale si arriva allo spartiacque no la deadline mettiamolo il 2020 covid-19 dad è quello che tu definisci nuovo ordine scolastico digitale sì allora io come una deadline metterei anche il 2010 nel 2010 esce un documento del Parlamento europeo che io al tempo quando lo lessi rimasi atterrito nel 2010 e lo lessi anche in un collegio docente a scuola mia tutti i colleghi rimasero atterriti eravamo nel 2010 oggi probabilmente non rimarrebbero atterriti perché nel frattempo ci siamo abituati a quel terrore e quel documento del Parlamento europeo si diceva espressamente che appunto era un documento sul mercato unico digitale quindi sulla preparazione al mercato unico digitale noi sappiamo che neoliberismo le leggi del mercato oggi il mercato è un mercato unico digitale per cui l'alfabetizzazione digitale doveva partire dalle scuole pre elementari quindi parliamo della scuola materna quando i bambini non hanno ancora un'alfabetizzazione fondamentalmente non sono tenuti a saper leggere e scrivere addirittura all'asilo qualcosa del 2010 Parlamento europeo e in quegli anni effettivamente le cose stavano così quegli anni intendo un pochino dopo perché poi sono apparsi i computer nelle scuole materne si hanno cominciato le maestre in alcune classi a far scrivere con word a far disegnare con paint e quindi quello un po' per me un po' uno spartiacco intorno al 2010 quando questa ondata arriva anche in Europa viene sancita dalla nostra Unione europea e appunto io vedo un po' questa coincidenza se vuoi che dal 2010 poi dal 2012 in base a quello che dice l'Ocse comincia questo tracollo delle prestazioni scolastiche a scuola cominciano ad apparire i tablet cominciano ad apparire le lim a me cominciano ad arrivare alle superiori i ragazzi che mi dicono venuti dalle medie e non avevano mai avuto un libro non hanno mai avuto un libro ci sono state delle sperimentazioni qua nella mia città dove una certa azienda che non si occupa di informatica oltretutto forniva alle scuole medie tablet no per cui facevano tutto lì facevano tutto lì ma adesso se uno guarda le come dire le home page di molte scuole si vede adesso in mente qualcuna non saranno tutte così ma comincia cominciano ad apparire queste foto di presentazioni della scuola dove si vedono bambini delle scuole elementari con il loro tablet davanti hanno una lavagna limma l'insegnante non si vede è veramente è veramente inquietante anche il fatto che le grida d'allarme mettiamola così vengono sempre soffocate nel libro parli del caso di manfred spitzer neuroscienziato tra i più importanti al mondo nel campo della neuro didattica c'è la ricaduta della didattica in ambito pedagogico lui è un'anima critica sul futuro delle aule sul futuro sul presente delle aule iperconnesse mi pare un po il montagnier dell'alfabetizzazione digitale visto che è stato massacrato dai media e dall'opinione pubblica quindi non nessuno si può permettere di dire nulla neanche dall'alto della sua conoscenza se manfred spitzer sicuramente il più conosciuto e il più anche il più divulgativo se vuoi no e se uno va a vedere su pubmed la cosa impressionante lì che poi qualche anno fa ebbi il crollo di fiducia nella scuola e un po nelle istituzioni cioè studi di neuroscienza di neurolinguistica di pediatria di quello che di quello che volete voi cioè ce ne sono a migliaia sui danni su molteplici aspetti e parlo in questo caso didattici solo no sugli aspetti didattici sulla sulla perdita della capacità di lettura di scrittura sulla sui danni provocati dal multitasking che invece viene osannato dai insomma dai dagli alfieri della didattica digitale no questa capacità di vedere su uno schermo due o tre cose seguirle contemporaneamente sono delle distruzioni no del dei processi endogeni di attenzione di concentrazione ci sono danni sugli occhi sulla miopia sono studi che dicono che praticamente dopo il quegli anni di dad c'è stato un aumento spaventoso di miopia nei bambini di miopia precoce per cui ti dicevi del 2020 sì quando è arrivato il 2020 il covid lì appunto la scuola ha chiuso prima se ci ricordiamo di altre cose ha chiuso prima prima del lockdown generale le scuole sono andate in dad e io lì ho capito che ci stavano fregando proprio l'ho avuto immediatamente cosa ci stavano fregando cosa ci stavano dogliendo e beh beh innanzitutto chi ci stava fregando google erano due anni che cercava di entrare nella scuola con metodi poco trasparenti chiedeva io per esempio ricordo questo prima del covid che girò una circolare nelle scuole dove si chiedeva ai genitori di firmarla e firmandola loro i genitori dichiaravano di conoscere ed accettare tre cose la normativa di google la normativa sulla privacy la normativa l'anetichetta era un foglio cartaceo e a fianco c'era un lungo indirizzo su cui andare a vedere cosa c'era scritto cioè cosa si riferivano no quelle la normativa sulla privacy io sono andato a digitarle sì nel complesso erano 150 200 pagine di roba ci voleva un avvocato per capirla allora ti arriva a casa questo foglio il genitore lo firma intestato dalla scuola io un po mi opposi a scuola mia e poi è arrivato il covid invece siamo stati obbligati a metterci su google per cui te chiedevi cosa ci stanno fregando a mio avviso innanzitutto i dati e poi stanno rubando una molteplicità enorme di capacità cognitiva ai bambini ai ragazzi e questo è drammatico venendo al caso dell'italia facevi riferimento alla tua scuola in nel biennio 2006 2008 governo prodi due ministro dell'istruzione fioroni proibisce l'utilizzo del cellulare a scuola sembra una manovra a mio avviso al nostro avviso straordinariamente eh di eh di contezza di di illuminazione politica poi però dalla buona scuola di di Renzi in poi siamo arrivati esattamente all'opposto fino all'agenda digitale Draghi Colau tutto un progressivo impennamento della digitalizzazione del virtuale nel mondo scolastico ti chiedo Giorgio Matteucci ma quanto pesa la politica e soprattutto dove finisce la politica e poi dove in realtà manovrano le grandi multinazionali allora innanzitutto io direi l'agenda Draghi Colau Bianchi perché a scuola noi avevamo il ministro Bianchi che il ministro Bianchi era un eh direttore di una fondazione internazionale di big data intelligenza artificiale messo a capo della scuola no? Eh dove finisce? Ma eh è il mercato la politica finisce lì dove c'è il mercato eh ehm torno ancora un provo a rispondere alla domanda di prima no? Cosa ci stanno rubando? Proviamo a dire anche i soldi nel senso che la politica finisce lì dove si fanno gli interessi del mercato per cui ci sono delle analisi che che ho trovato di una società internazionale che si definisce la società leader nel settore delle analisi di mercato del settore dell'educazione digitale e nei mesi precedenti insomma questi qui pubblicano regolarmente dei report su come va l'andamento del mercato della strumentazione digitale no? Del dell'educazione digitale nei mesi precedenti eh ci sono delle eh inquietante un po' no? Perché veramente sembra la preparazione ad una guerra adesso insomma magari eh prova a leggerti un pezzo. Certo con molto piacere assolutamente sì. Vediamo un po' se lo se lo ritrovo. Chi ci segue sulla casa del sole tv è preparato eh quindi diciamo non si mette paura voglio dire. Questa questa azienda no? Cioè parla è uno cioè prospetta poco prima del covid di uno scenario analogo un po' ad una guerra dove dice il 2019 quindi siamo prima no? Il 2019 si preannuncia come una grande battaglia K12. K12 si intende il settore dell'istruzione eh fino ai 12 anni. Ah ok. Eh per i giganti della tecnologia. In uno sforzo eh chi vince prende tutto aspettatevi che i giganti statunitensi eh lancino importanti iniziative educative e annuncino ulteriori acquisizioni. Inoltre aspettatevi che i giganti cinesi continuino ad acquisire tecnologia di apprendimento in in patria e all'estero mentre tutti spingono per avvicinarsi allo studente. Per cui lo scenario che ho visto io esaminando un po' questi report eh di questa società Oloniku eh che nei mesi precedenti negli anni precedenti allo scoppio della pandemia c'era una certa preoccupazione per il fatto che le aziende cinesi di educazione digitale Tencent eh Alibaba eh stavano conquistando fette di mercato rispetto alle aziende americane. Arriva il covid e poco prima del covid un'altra parte che sarebbe interessante eh la la direttrice di questo di questa società dichiara che dobbiamo aspettarci dal mercato delle aziende di educazione tecnologica un progressivo aumento e poi all'improvviso è a poco a poco e all'improvviso ci sarà un'esplosione. Un'esplosione. Un'esplosione del mercato digitale. Certo. Il mercato dell'educazione digitale no? Eh dopo pochi mesi scoppio il covid. I primi tre mesi vengono registrati viene registrato da parte di queste aziende in particolare quelle americane il dieci per cento dei guadagni in tre mesi il dieci per cento dei guadagni che avevano fatto nei dieci anni precedenti in tre mesi per cui mentre noi eravamo chiusi in casa disperati con i bambini attaccati allo schermo la mia no eh loro pubblicavano dei report dove erano cioè descrivevano quel periodo come il miglior periodo che avessero mai cioè un periodo straordinario. Florido ma infatti noi sottolineiamo sapesso come non sia stata soltanto big pharma ad avere approfittato dell'emergenza covid diciannove ma anche big tech. Ti voglio fare un'altra domanda prendendo spunto da un documento che tu citi nel libro i vari programmi di abbonamento perché poi quando la scuola quando la famiglia dello studente entra in questa dimensione virtuale c'è l'abbonamento che ti ti lega vita natural durante. Questi sono dei passaggi importanti vorrei poi un tuo commento caro Giorgio. Il nuovo regolamento prevede che i progressi dell'apprendimento degli studenti potranno essere gestiti dai feedback forniti all'intelligenza artificiale e poi si finisce nella graduale interazione umana dell'istruzione sostituita da qualcosa di non più umano. Allora ci stanno traghettando sempre in più in questa dimensione inedita quantomeno per l'opinione pubblica. Il transumanesimo è una parolaccia oppure entra all'interno di questo grande contenitore di trasformazione globale e digitale? Ma io penso che dalla Dada in poi da quando abbiamo cominciato a parlare di Dada nella nostra vita siamo entrati in una prima fase del transumanesimo. Io penso che un'intera generazione, penso per esempio a quella di mia figlia che ha avuto la sfortuna di avere sei anni, di essere in prima elementare quando c'è stato il lockdown, fino alla terza praticamente, io l'ho tolta da scuola ma insomma penso a tutta quella generazione, ha conosciuto la scuola, quindi l'imprinting, cos'è la scuola? Per un bambino di sei anni che arriva a scuola per la prima volta senza avere esperienze precedenti, insomma i primi tre anni sono stati un discreto imprinting, i primi tre anni di scuola e questi primi tre anni molti bambini hanno conosciuto la maestra attraverso i pixel, hanno visto la maestra attraverso i pixel, hanno sentito la voce della maestra non dalla bocca ma dal microfono che sta da un'altra parte rispetto alla bocca, per cui hanno consegnato le verifiche sulle piattaforme di Google, se le sono viste riconsegnare dalla piattaforma di Google, hanno salutato i propri compagni sullo schermo, tutto questo è una preparazione al transumanesimo, cioè questi bambini sono pronti. Certo. Prego, prego, prego Giorgio. No niente, è stato un periodo di semina, ora non siamo nella fase della raccolta del transumanesimo, però mancherà poco io credo. Allora per proseguire questo discorso gli ultimi dieci minuti ce li giochiamo facendo vedere ai nostri amici che ci stanno seguendo delle pubblicità miccanti, mettiamola così, che le multinazionali attraverso il mainstream e i social media utilizzano per veicolare i loro contenuti didattici. Allora questa è una pagina del Corriere della Sera, non so Giorgio se tu la stai vedendo con me, è una pagina, riesci a vederla? Ecco ora sì. Benissimo, questa è una pagina sponsorizzata da Vodafone, quindi una multinazionale della telefonia mobile che acquista una pagina del Corriere della Sera per dirci il futuro della scuola è già qui. Ecco come saranno le classi 5G, si vede nell'immagine uno studente giovane minorenne con un visore ottico, quindi immerso in una realtà virtuale e poi la di Tascalia, questo è un articolo che ho ripreso da Quasi Sana, immersive, super connesse e virtuali, queste le classi del futuro, le applicazioni didattiche rese possibile tecnologia wireless di quinta generazione permetteranno di fare lezioni in remoto, usare il robot in classe, fondere realtà virtuale e aumentata in nuove esperienze formative. Il tutto, attenzione, a favore degli studenti, ma quindi ci vogliono veramente bene, vogliono veramente bene anche ai nostri figli, voglio dire. Sì, beh ci tengono tanto, sì, ci tengono. No, e beh questo fa parte di un processo overtoniano, no? È cominciato un po' di anni fa, con tre fasi, no? Questa è qui la terza. fase, la prima fase è stata insegnare l'informatica, no? Le I di Berlusconi, informatica. Poi c'è stata una seconda fase, quindi un conto a insegnare cosa? L'informatica. Seconda fase è insegnare attraverso l'informatica, quindi tablet. E qui siamo nella terza fase, dove la scuola viene trasformata in una, l'essa stessa, in un ambiente digitale, immersivo, no? Per cui la terza fase è insegnare proprio dentro, stare dentro il mondo informatico, nel mondo, la no sfera. Quindi fondamentalmente uscire dall'ambiente fisico, dall'ambiente delle relazioni e insegnare in questo ambiente, che non è più quello fatto di mattoni e malta, insegnanti, aule, ma ambienti virtuali. Ambienti virtuali, la sostituzione dei piani. Allora, questo invece non è ovviamente un sito delle teorie della cospirazione, ma è orizzontescola.it, che sicuramente conoscerai, Giorgio. Visto che nessuno, tranne noi, eccetto noi, tra Casa del Sole TV e tutte le inchieste che vado conducendo, anche per Rosi Sana e altri siti con il Tecno Ribelle, si parla e si punta al dito sulla disoccupazione tecnologica, che sarà un effetto della quarta rivoluzione industriale. Orizzonte Scuola titola nel 2018, quindi prima dell'avvento del Covid-19, docenti, nel 2027 potrebbero essere sostituiti da avatar. E quindi il rimando è al metaverso. E proprio nei giorni scorsi il sottosegretario della Presidenza del Consiglio con Delegal Innovazione, Alessio Butti, ha incontrato a Palazzo Chigi un vertice, un top manager di meta, che è la holding di Mark Elliott Zuckerberg. Quindi anche i docenti sono prossimi a un refresh, a un cambio. Arriviamo al metaverso con gli avatar. Infatti, una delle domande del libro è, abbiamo veramente bisogno degli insegnanti, anche perché ci stanno preparando a questi nuovi insegnanti, fatti di intelligenza artificiale, con, forse gli insegnanti di carne non se ne sono accorti ancora, ma ci stanno preparando con un concetto che è quello della personalizzazione. Allora, noi insegnanti saremmo tenuti a personalizzare, noi insegnanti veri ancora, a personalizzare sempre più per ogni studente. Allora, questa personalizzazione verrà fatta dai sistemi di intelligenza artificiale, per cui ogni studente si potrà mettere quando vuole, dove vuole, H24, sette giorni su sette, con il proprio programma di educazione virtuale che gli fornisce feedback, quando vuole, se sbaglia può ricominciare, per cui adattandosi alle esigenze dello studente. Questa è un po', la narrazione che sta entrando è quella dell'adattamento alle esigenze dello studente, per cui effettivamente H24 a mezzanotte all'una, ci può essere un programma di intelligenza artificiale che sta a fianco al nostro bambino ad aiutarlo a studiare. Certo, è perché ci vogliono bene. L'ultima, caro Giorgio Matteucci, ti chiedo un commento, visto che tu la citi nel libro, la Pearson, che è una multinazionale dell'iTech, in questo caso ti voglio un commento su una citazione che ho preso da un libro di test di inglese per le scuole secondarie di secondo grado. La Pearson è conosciuta in tutto il mondo, fa libri per la scuola e c'è questa citazione, previsione 2050, microchip con carta di identità, con tutte le informazioni personali che avremo nella mano destra. Questo è un messaggio, è un contenuto da trasferire ai nostri figli, ai nostri alunni, alle nuove generazioni. È così che si fa scuola? Beh, la scuola è un luogo di manipolazione, è un luogo, io penso che i libri di testo, soprattutto della Pearson, siano scritti da degli epigoni o degli allievi di Joseph Overton. Ci puoi trovare su di tutto, al fatto che stanno preparando gli studenti a mangiare insetti, al microchip e a tante altre belle cose, che adesso non è il caso di parlare. Però effettivamente un'attenta analisi dei libri di testo, dai quali io me ne tengo molto lontano, non li uso, andrebbe fatta. Io non ho lo stomaco per farlo, però andrebbe veramente visto cosa c'è scritto su questi libri di testo. Sono più che strumenti per imparare, sono veramente degli strumenti per manipolare e preparare in un'ottica overtiana di Joseph Overton, di preparare a quello che ci aspetta. Certo. Allora, io ringraziandoti per la tua disponibilità, per questa piacevole chiacchierata, ricordo il libro nero della scuola, come le lobby dell'educazione tecnologica e digitale hanno conquistato la scuola, gli studenti e il futuro post-pandemia. Arianna, editrice, scritto da Giorgio Matteucci, l'autore che ringraziamo per questa intervista. Grazie Matteucci. Arrivederci, grazie. Allora, io vi ricordo che per approfondimenti e maggiori dettagli è anche disponibile Stop 5G, Salute Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo, Controllo Sociale, Libro e Inchiesta, sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizione oppure sul sito di aggiornamento naturale www.oasisana.com Ringraziandovi per l'attenzione, l'appuntamento è la prossima puntata di Allerta 5G, sempre qui, sulla Casa del Sole TV. Grazie a tutti e un saluto da Maurizio Martucci. Grazie a tutti e un saluto da Maurizio Martucci.